ok montano anche queste altre due pagine eccole qua ok montate anche queste due pagine ed eccola qua inizio dello space shuttle bellissimo ed ecco ragazzi che lo space shuttle prende forma tra poco devo andare a pesco piano e poi si continua prossimamente guardate che spettacolo ed ecco montata ragazzi la prima busta della stazione spaziale internazionale con lo space shuttle fantastico ogni meno dettagli e niente mettete mi piace aumentate sicuramente noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao a tutti belli ciao